Bene amici, scordiamoci mia perché con la bozza del prossimo decreto lavoro visionata da Sole24ore e Messaggero abbiamo il vero sostituto, o meglio i sostituti, di RDC, del reddito di cittadinanza. Insomma, pare che il nuovo RDC si chiamerà Garanzia per l'Inclusione, GIL, l'acronimo, ma non basta, sarà affiancato anche da altri due strumenti di politica attiva, la prestazione di accompagnamento al lavoro e la garanzia per l'attivazione lavorativa, giusto per semplificare. Ora vi dico i primi dettagli, prima di partire però mi raccomando, un bel like, iscrivetevi, attivate la campanella, così rimanete sempre aggiornati su tutto. Dunque, secondo questa bozza visionata, soprattutto da Sole24ore per autorevolezza, dal 1 gennaio 2024 entrerà in campo Garanzia per l'Inclusione, nome in codice GIL, che sostituirà RDC e verrà riconosciuta a chi? Ai nuclei familiari fragili, ovvero quelli dove sia presente all'interno almeno un disabile, un minore, un over 60, un invalido civile, eccetera. La base di importo sarà di 500 euro al mese da moltiplicare per la scala di equivalenza del nucleo, come oggi, e poi ci sarà la quota di affitto, pare, secondo la bozza, 280 euro, durata 18 mesi prorogabili. Attenzione però, requisiti per l'accesso, ISEE con un tetto a 7.200 euro e reddito familiare non superiore a 6.000 euro, poi ovviamente sempre da adeguare sulla base della scala di equivalenza del nucleo. Sempre secondo questa bozza, invece, per i nuclei occupabili, quindi quelli che abbiano sottoscritto il patto per il lavoro, arriverà la prestazione di accompagnamento al lavoro. Si potrà questa richiedere già nel 2023, dopo ovviamente la scadenza dei massimo sette mesi di RDC. Qui parliamo di 350 euro al mese come importo, sempre definito da questa bozza, e stesso importo 350 per la garanzia per l'attivazione lavorativa. Questa invece è riconosciuta ai soggetti tra 18 e 59 anni, in condizioni di povertà assoluta, con valori ISEE non superiore a 6.000 euro, che fanno parte dei nuclei che però non hanno diritto, non hanno i requisiti per accedere alla GIL, non scioglilingua. Poi lotta estrema ai furbetti, va bene, è giusto, fino a sei anni di carcere per chi vada a percepire indebitamente questi sussidi. Vi invito comunque a prendere tutto abbastanza, diciamo, con le pinze, perché appunto questo è quello che si sa ad oggi, sulla base di questa bozza, 43 articoli, le certezze le avremo solo con il decreto ufficiale, ovviamente, che dovrebbe andare in Consiglio dei Ministri, poi entro questo fine mese. Se le cose dovessero rimanere a grandi linee e così, possiamo però dire che certamente la platea dei beneficiari si andrà a ridurre drasticamente, soprattutto perché c'è questa stretta sui requisiti di accesso. E se resterà così, ecco, forse potrà essere davvero poco utile per combattere la povertà. Già RDC non arrivava, non andava a intercettare tutti i nuclei, no? Realmente in condizioni di povertà e di fragilità, qui si rischia che sia ancora decisamente peggio, oltre che ovviamente tutta la situazione problematica per chi sia, almeno sulla carta, occupabile. Detto questo, fatemi sapere voi che cosa ne pensate qui sotto e ci vediamo alla prossima, un abbraccio, un saluto, mettete un bel like, iscrivetevi da Mr. Lull.